... Oggi ci troviamo a Palermo Scienze e intervisteremo Marco Chifari. Allora, per prima cosa, come funziona questo modellino di ascensore? Allora, intanto vorrei dire che siamo del lì di Vittorio Emanuele III di Palermo e abbiamo realizzato questo modellino di ascensore che è simile a come sarebbe in realtà appunto un ascensore. L'ascensore l'abbiamo costruito con materiale di risulta che abbiamo trovato a scuola e con tre sensori che rilevano la presenza dell'ascensore al piano e tre pulsanti che servono appunto per la chiamata dell'ascensore. Il tutto è controllato da questo, che è un PLC, che è un controllore programmabile il quale viene programmato da chi lo vuole adoperare tramite il programma che comanda l'impianto, che è stato appunto realizzato da noi. Come funziona? Questo di qua riceve la combinazione degli ingressi dell'ascensore, quindi la combinazione dei valori di ingresso dei pulsanti e dei sensori. Quindi non appena io premerò il bottone, lui saprà, essendoci il sensore del piano attivato, e chiamandolo dal primo piano, saprà che deve arrivare per forza al piano 1. Appena arriva al piano 1 si ferma e si attiva il temporizzatore che apre la porta e le richiude dopo 5-6 secondi. E questo è il funzionamento dell'ascensore. Ok, grazie a riederci. Grazie.